Musica Venerdì primo giugno, buongiorno, ben ritrovati carissimi telespettatori, soprattutto buon inizio mese visto che oggi iniziamo questo mese che ci porta all'estate, nella speranza che il tempo stia dalla nostra parte vedremo comunque man mano cosa ci riserverà, ci riserverà il tempo, quindi le previsioni meteorologiche tra un istante prima andiamo indietro molto nel tempo perché oggi la Chiesa Cattolica ricorda un personaggio, un martire vissuto intorno all'anno 100, stiamo parlando di San Giustino Martire Giustino è l'uomo che inizia un dialogo tra il cristianesimo e la cultura greco-romana fu decapitato, gli tagliarono la testa con altri sei compagni di fede nel 164 ed è annoverato tra i padri della Chiesa il sole è sorto alle 5.28 e tramonterà alle 20.44 minuti abbiamo detto del tempo, allora andiamo a vederlo subito con la protezione civile delle Marche che nel suo sito oggi pubblica questa grafica per il primo di giugno avremo un cielo sereno poco nuvoloso con nuvole soltanto sull'Appennino e brevi e isolati rovesci pomeridiani sui monti Sibillini domani sabato 2 giugno giornata serena o comunque poco nuvolosa con soltanto un po' di venti di brezza con vento moderato nelle ore centrali e domenica potremmo dire che sarà una giornata comunque di sole e anche di mare con cielo sereno o poco nuvoloso lo spostamento però verso Levante dell'area di alta pressione favorirà flussi sud-occidentali leggermente instabili con transito di nuvolosità e possibilità di brevi piogge sui rilievi appenninici per i prossimi giorni dopo la giornata di domenica allora salutiamo non lo facciamo da un po' i nostri telespettatori che ci seguono attraverso la nostra pagina Facebook quindi per esempio Valentina Giada, Fabrizio Gabrielli che sta guardando Mauri, Gloriana, insomma tutti quelli che stanno allo smartphone e stanno vedendo la nostra rassegna stampa cominciamo con la notizia già chi ha seguito il telegiornale lo saprà la notizia drammatica della morte di Sara Bracci è una giovane donna che a seguito di un incidente che le è capitato nel 2015 da più di due anni viveva in uno stato vegetativo è morta all'ospedale di Fano dopo aver tentato di tutto e di più per cercare di riportarla tra noi e adesso i giornali scrivono questa mattina questo è il Corriere Adriatico la pagina e l'edizione di Pesaro il titolo è è morta Sara, la sommelier in coma da due anni e mezzo vittima di un incidente stradale nel 2015 si è spenta ieri all'ospedale di Fano centro pagina invece gli israeliani che vogliono comprare l'ex Bramante il complesso parte da un valore di 4 milioni e mezzo la pagina di Fano tutta per Sara eccola qui un calvario tra speranze e dolore si è spenta a Fano dopo il rientro dall'Austria per l'ultimo tentativo di svegliarla Sara Bracci ambasciatrice territoriale di enogastronomia e compagna del presidente della delegazione Raffaele Papi in coma dal 9 dicembre del 2015 dopo un incidente stradale si è spenta per sempre circondata dall'affetto dei suoi cari il giornale ricostruisce tutte le tappe dal viaggio in Austria dalla raccolta fondi che sono stati fatti la raccolta fondi che è stata fatta per aiutare a pagare appunto queste cure costosissime anche all'estero e poi Silvia Sinibani che racconta di questi 30 mesi nel mistero di vita sospesa la giovane donna appunto come dicevamo fu vittima di questo schianto in una fredda mattinata di dicembre del 2015 come dicevamo poi il delitto Lulli sempre sulle pagine del Corriere Adriatico igli credibile prospettive importanti dopo il doppio orgastolo il legale di meta Asole aspetta le motivazioni per il ricorso in Cassazione e anche per il difensore di Mema Alessi le dichiarazioni hanno pesato nella sentenza e poi paura per una conducente che perde il controllo dell'auto a Urbino e vola nel fossato insieme alla nipote la cronaca sempre sul Corriere di questa mattina in edicola una detenuta a Villa Fastigi di Pesaro aggredisce una poliziotta tensione e violenza in carcere l'agente della penitenziaria è medicata all'ospedale il sindacato dei poliziotti dice il SAP e chiede un'ispezione ministeriale c'è un link che salva la vita è un click che dice ai vigili del fuoco dove sei in caso di necessità si chiama Geoloc ed è in dotazione ai vigili del fuoco un sms invierà la tua posizione alla sala operativa dei vigili e in casi particolari, in casi di emergenza può davvero essere molto utile e adesso invece la seconda pagina di Fano del Corriere Adriatico la movida al porto è senza auto a metà giugno, nella fine settimana parziale pedonalizzazione serale dello scalo spazio a iniziative gastronomiche e shopping ad agosto invece zona off limit per tutti parliamo della ZTL e poi a centro pagina il Corriere saluta in qualche modo Carlo Ondedei che dopo aver passato 39 anni filati nei lavori pubblici del Comune di Fano prima nel settore strade e fognature e poi come direttore dell'ufficio Porto e Difesa della Costa ieri ha salutato per l'ultimo giorno di lavoro appunto tutti quanti ed è andato dunque in pensione a quasi 67 anni la pagina di Urbino invece sotto addio al presidente della Vadese dei Miracoli siamo a Sant'Angelo in Vado si è spento a 77 anni Romano Gregorini oggi in Duomo i suoi funerali i funerali alle 14.45 e dunque il giornale ricorda questo dirigente della Vadese Calcio parliamo dei Miracoli del 1981 fatti dall'81 al 94 presidente anche delle stagioni d'oro del Calcio della Vadese dell'87-88-89-90 quando la società di una realtà poco più che paesana sfiorò di un non nulla addirittura la serie C Vallefoglia invece in centri, terme e colonie sarà un'estate per ogni età tutti i programmi utili per anziani e bambini le iscrizioni sono in scadenza una notizia che arriva da Monte Labate mentre sotto da Vallefoglia musica e sport così si celebra la festa della Repubblica Valle Cesano il sindaco chiama la carica per la volante Baldelli siamo a Pergola ricevuto in municipio da squadra i dirigenti Rosso Blu orgoglio per la permanenza in eccellenza quindi parliamo di calcio faremo la nostra parte organizzeremo con i cittadini una grande campagna abbonamenti per superare almeno quota 100 andiamo sulla pagina di Cattolica e Gabicio perché c'è questa notizia che sicuramente farà discutere anche voi a casa che state seguendo la nostra rassegna stampa oltre che aver parlato fatto parlare attraverso i social come spesso accade si parla di questa ragazza cattolica di questa ragazza sopra di questa donna di 47 anni che è stata respinta ad un colloquio perché aveva ah anzi un tatuaggio il titolo non assunta come cameriera perché ha tatuata sto male dice lei per la discriminazione da Senigallia invece i miei ultimi 700 giorni da sindaco poi mi ritiro però resto a guardare il primo cittadino Mangialardi dice impegno sul verde traffico e parcheggi questo non è un libro dei sogni e il giornale racchiude in questo grafico sintetizzato il bilancio appunto del sindaco cambiamo giornale apriamo il resto del carlino a centropagina una splendida foto di Sara Sara Bracci morta appunto come dicevamo a 41 anni fanese sommelier era in stato vegetativo dal dicembre 2015 a causa di un incidente stradale il titolo addio Sara e poi sopra Marinelli sindacati alla finestra attendiamo segni dai lavoratori mercoledì intanto in Duomo ci sarà il funerale dell'imprenditore decisiva sarà anche la mossa del principale cliente ovvero mondo convenienza il ricordo di Papalini presidente di Confindustria di Pesaro Andrea era una risorsa per tutti e poi il delitto di Ismaele Ambera scagionata da Igli la fidanzatina verso l'archiviazione e tra un attimo vedremo anche questa polemica sulla Fano dei Cesari scatenata dagli animalisti che insorgono per i cavalli ma apriamo la pagina di Fano Sara si è spenta ogni speranza organizzatrice di cene di beneficenza per garantirle organizzate scusate cene di beneficenza per garantirle le migliori terapie a Innsbruck però non è bastato queste cene come dicevamo prima organizzate in tutti questi mesi in questi anni da amici e colleghi e il Carlino ricorda la tragedia che ha colpito questa ragazza è successo tutto il 9 dicembre la Panda su cui viaggiava Sara si scontra con una Ford Fiesta lungo la strada provinciale 29 che collega Pianello con Cagli le sue condizioni appaiono subito gravissime e da lì in poi è stato tutto un calvario ma la sua mente fertile e appassionata ha partorito tante iniziative come la cena del cavolo il gioco dell'oca goloso e la staffetta del Bianchello ora saranno riprese tutte dalla sorella Anna che in qualche modo ci auguriamo venga aiutata per portare avanti queste iniziative nate da questa ragazza appunto che non è più qui ma sicuramente aiuterà e darà una mano dal cielo Ambera invece è complice ma i giudici la salvano la madre di Ismaele Lulli la vorrebbe in galera procura orientata verso l'archiviazione e perché la mamma di Ambera la mamma scusate di Ismaele vorrebbe questa ragazza in galera e magari possibilmente all'ergastolo come insieme a questi altri due perché è lei che ha mandato l'SMS trappola agli assassini è lei che ha dato appuntamento a Ismaele quel giorno in quel luogo San Martino dove poi in realtà al posto di trovare Ambera Ismaele ha trovato i due assassini ecco perché la vorrebbe in galera concorso internazionale per il mercatale questa è la pagina di Urbino bando di idee bando per le idee che chi vincerà avrà come riconoscimento un premio di 9.000 euro l'area da ripristinare è estesa anche alla zona delle vigne scadenza di questo bando a fine agosto sotto San Crescentino protegge sempre Urbino messa pontificale con l'arcivescovo Tani e processione con la festa del patrono dunque inizia oggi un fine settimana denso di appuntamenti per la comunità religiosa per San Crescentino la messa è ufficiata dall'arcivescovo Monsignor Giovanni Tani sarà alle 17 nella chiesa di San Domenico e a seguire ci sarà la processione della statua del santo per le vie della città di Urbino e poi in serata alle 21 ci sarà la gara podistica del donatore la gara podistica notturna e poi tante altre iniziative che potrete leggere sul giornale e poi da Pergola confessa di aver sottratto soldi alle poste del paese l'ex direttore va a processo preso con le mani nel sacco dagli ispettori aziendali aveva sottratto 2800 euro dalle casse dell'ufficio postale di Pergola in cui lavorava il fatto è della scorsa estate il colpevole è stato accusato e accusato di peculato l'udienza sarà ad ottobre e poi l'ultima pagina quella del Fano dei Cesari quella che riguarda questa iniziativa che verrà ripresa durante l'estate fanno dei Cesari lasciate in pace i cavalli gli animalisti prendono posizione contro l'attesa corsa delle bighe e poi lanciano una provocazione anche i leoni e i gladiatori fanno parte della storia di Roma li prevediamo? potrebbe essere un'idea interessante magari qualche circo che si presta per far venire anche qualche leone attirerebbe ancora più gente nella foto che vedete invece pubblicata dal quotidiano il resto del carlino vedete i cavalli quasi ormai sfiniti morti che probabilmente verranno poi abbattuti alla fine della corsa e qui invece un primo piano dei due cavalli qui vedete le lacrime sono ormai a fine corsa e non ce la fanno più anzi un cavallo sta dicendo all'altro mai chiamato le associazioni animaliste io non ne posso più di questi straordinari questi ci fanno correre attorno al pincio tutto il giorno non se ne può più questa è una cosa che non può andare avanti così per la vita per tutta la vita noi ci fermiamo la rassegna stampa torna domani mattina questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti